Grazie a tutti! Sì, è una biblioteca milanese fondamentale e cruciale. MilanoX fin da 2009 usa Twitter, ci ha creduto pesantemente. Io personalmente mi sono convertito al lucellino blu dopo la rivoluzione verde iraniana e ho twittato per le proteste di Copenhagen a Klamazami. Facebook richiede una reciprocità, no? Tu sei amico e l'altro deve accettare di essere tu amico. Questo non avviene assolutamente su Twitter. Per dire uno slogan, Facebook chiude nel tuo mondo e Twitter chiama il mondo. Ho partecipato al primo appuntamento di Citizen Journalism e Libertà di Espressione a Baggio, tweet alla rivoluzione. Molto interessante, quindi invito tutti veramente a partecipare anche agli altri appuntamenti che riguardano video, TG a Km0, insomma, giornalismo attivo sul territorio. Io sono di Baggio, mi piace questo quartiere, voglio che sia ancora più bello, più partecipato perché ci sono tante cose da dire e da fare. Alex Foti di MilanoX a termine della serata charity dedicato a Twitter. Perché Twitter a Baggio? Perché è un modo di viralizzare campagne sociali, campagne di impegno civico, attivismo ecologista. Per esempio, alla fine di questo workshop, che è durato tre ore, abbiamo lanciato la campagna BBC Baggio Bene Comune. Il mio consiglio è follow at share it baggio. Grazie a tutti.